Ciao a tutti da Parafranze, benvenuti a questo video. Oggi un video un po' insolito, probabilmente avrete sentito dei 12 corpi trovati sul tonale e oggi sono venuto qua insieme alla mia famiglia a rendere omaggio ai poveri caduti. Come vedete qui dietro di me c'è il cratere dove sono stati sepolti dai soldati italiani dopo la battaglia del 13 giugno 1918. Siamo sotto cima cadì dietro le mie spalle, non si vede, coperto da questo crinale, dove c'erano le avanzatissime ridottine italiane. Abbiamo portato un mazzolino di fiori, ci siamo incontrati con altri appassionati casualmente che passavano di qua, tra l'altro in divisa austriaca è stata molto suggestiva, se dovessero vedere questo video li saluto e li ringrazio per le indicazioni. Grazie a tutti!